Buone notizie per la città di Agropoli, a comunicarle il primo cittadino Adamo Coppola. L'Asla mi ha appena comunicato che la maggioranza dei tamponi afferenti alla catena dei contatti del minore frequentante la scuola Caffarelli sono stati processati ed hanno avuto esito negativo. Lo ha comunicato in una nota stampa, nella giornata di domenica, il primo cittadino agropolese. L'Asla sta provvedendo, continua Coppola, a contattare ognuno di loro per comunicare il riscontro. Coloro che non verranno chiamati dovranno avere ancora un po' di pazienza. Entro la giornata di oggi avremo gli esiti. Questa è una bellissima notizia, fa sapere il sindaco Coppola e fa ben sperare anche per i prossimi risultati. Scenario invece diverso per la squadra di calcio agropolese che nei giorni scorsi ha registrato la positività di un calciatore. Il ragazzo è originario del napoletano e dopo aver scoperto di aver avuto contatti con una persona a lui vicina, risultata positiva al Covid-19, si è messo in auto isolamento in attesa del tampone che purtroppo nella giornata di domenica, 18 ottobre, ha dato esito positivo. Il calciatore, fanno sapere dalla società sportiva, non ha avuto contatti con la squadra da giovedì, tanto che la FIGC ha deciso di non rinviare la gara con il Faiano, partita che si è svolta regolarmente presso lo Stadio Guariglia nella giornata di ieri, domenica, 18 ottobre.